Serviranno ad Anas ad effettuare delle indagini strutturali approfondite per esaminare lo stadio di degrado del calcestruzzo e di tutti gli altri elementi, le limitazioni al traffico nel ponte sul metauro che si trova nella zona sud di Fano. In particolare in queste giornate da venerdì mattina verrà ridotto il carico limitando il passaggio dei mezzi pesanti e utilizzando per quanto riguarda gli altri veicoli il senso unico alternato. Il tutto rientra all'interno del monitoraggio delle strutture organizzato da Anas. I controlli di stabilità dovrebbero durare all'incirca tre settimane.